Andrea Brizzi, dirigente accompagnatore della Juniors del Sansepolcro, ci siamo, ci sono le finali, sappiamo che voi siete pronti, la vigilia com'è? Innanzitutto speriamo di essere pronti perché purtroppo è bene, abbiamo vinto il nostro girone H a Umbro Marchigiano, però è dal 6 aprile che siamo fermi perché eravamo in un giro nella 13 squadre, con due squadre professionistiche fuori classifica e poi ha zoppato per i ben noti fatti del Foligno a fine anno 2016, quindi alla fine il girone è terminato il sabato prima di Pasqua e siamo fermi attivamente da quella data lì. Il 31 maggio è la data fatidica che sapevamo in cui iniziavano gli ottavi di finale, perché? Perché le altre squadre hanno fatto i playoff, praticamente ti spiego velocemente come funzionava, erano 11 squadre, 11 gironi con 11 capolista che sono passate direttamente agli ottavi e poi dovevano uscire dai playoff di tutti i gironi e dai triangolari che sono terminati la settimana scorsa e 5 squadre per comporre un lotto di 16 squadre che andava a comporre gli ottavi di finale. Noi siamo stati abbinati con una prima, per bene o per fortuna non lo sappiamo, che è rimasta ferma come noi da poco dopo Pasqua, che è il Real Forte del Marmi, Real Forte Querceta si chiama precisamente, e siamo fiduciosi, siamo fiduciosi, la prima partita la giocheremo in Toscana, in Versilia, il 31 maggio alle 16 e poi il ritorno invito tutti gli sportivi a confluire al Buitoni per dare una mano a questi ragazzi il 3 giugno, sabato 3 giugno. Senti Andrea, tu le hai vissute tante, delle vicissitudini della Juniors, sono 15 anni che tra San Giustino e San Sepolcro ti occupi di settore giovanile. C'è una similitudine fra i campioni italiani e Juniors? Il titolo è ancora là, in bacheca e questa? Guarda, da qualche anno ti dico che hai cambiato il regolamento, perché? Perché da 3 o 4 anni mi pare i giocatori che fanno le finali non è come durante il campionato che possono esserci dei sottocuota. I giocatori sono quelli in quota, quindi quest'anno sono i 99, 98 e 2000 eventualmente che ci sono e ce ne sono tanti, ti garantisco. Mentre quella squadra lì, sempre allenata da Maurizio Falcinelli che vinse lo Scudetto nel 2009, vantava anche 4 fuori quota che sforavano di due anni. Praticamente erano gli 89 e i 90 che potevano giocare in quell'annigliazza di giocatori. Ci sono giocatori che tuttora fanno i professionisti, mi ricordo di Ferri Marini, Bartoccini che comunque sia tutti gli anni e squadre che lottano per il campionato. L'anno scorso tra l'altro avendo il campionato a Gubbio, poi c'è Passeri che c'entra avanti del Ventinella, insomma c'erano fior di giocatori in quella squadra. Quadroni che fa magia ancora a Langiari, quindi era una bellissima squadra, forte e rinforzata insomma da questi giovani che facevano i fuori quota. Ti faccio per dire che quel sabato ad Aprilia nella finale col Savona, per dire Tasserini, capitano del Sansepolcro fino all'anno scorso, era fuori, era in panchina per dire. Senti, al delà della scaramanzia, intanto ricorda l'appuntamento del 3 di giugno tutti allo Stato Buitoni per seguire questa partita della Juniors. Però un bilancino lo puoi fare, a prescindere da come andrà a finire anche quest'anno, visti quanti di questi ragazzi sono stati cooptati in prima squadra, è un grandissimo successo. Sì, diciamo che quest'anno la salvezza della prima squadra è arrivata praticamente due mesi prima, ha aiutato anche l'inserimento di alcuni di questi ragazzi che in molti sono saliti sopra, sono andati via con il mister Schenardi, hanno anche esordito in prima squadra. E poi ti dico che il bilancio è ottimo, perché? Perché quest'anno siamo tornati nel girone Ombro Marchigiano dopo tre anni in Toscana e ti dico che a prescindere dal girone stretto come squadra è stato molto formativo come pensavamo. Non ci aspettavamo certo di arrivare prima in classifica, però ci siamo trovati lì, avevamo un avversario molto forte come la Vispesero che poi è andata fuori nei play-off e la squadra che ha fatto i play-off adesso è negli ottavi di finale a Recanatese.